ok allora seguitemi tutti e cominciamo a vedere come si fa uscire sui rami questo ramo è molto facile in effetti quando capitano i rami invece un po più complicati dove è meglio scendere al di sotto cosa faccio io metto la mia seconda via in fondo al ramo quindi ho una via che mi porta verso il tronco e una via che mi porta in punta al ramo la mia seconda via la zoomata la zoomata la zoomata la zoomata